Noi certamente siamo in piazza per dare solidarietà alla Palestina, ma noi siamo in piazza contro la guerra, siamo in piazza contro la corsa agli armamenti, siamo in piazza perché pensiamo che comunque la giustizia si costruisca a partire dalla giustizia sociale che ci manca anche qui, per questo siamo in piazza e continueremo a stare in piazza. L'Occidente veramente ha dimostrato questo genocidio, perché si chiama genocidio, ha mostrato la vera faccia dell'Occidente ma anche degli Stati Uniti che purtroppo non è sempre saputo che erano, ma l'hanno dimostrato ancora di più. Speriamo che quello che è successo, cioè due date storiche che sono state ieri e l'altro ieri, abbia un seguito che riescano quantomeno a interrompere i bombardamenti e a far entrare gli aiuti umanitari. Speriamo che questa sentenza sia storica e che abbia un esito positivo per il Sudafrica e per tutti i paesi che l'appoggiano. Speriamo che la nostra sentenza sia storica e che abbia un esito positivo per il Sudafrica. Speriamo che la nostra sentenza sia storica e che abbia un esito positivo per il Sudafrica e che abbia un esito positivo per il Sudafrica